Buongiorno Filippo Diodovic dalla sala operativa di IG di Milano. Bene gli indici azionari grazie ai forti acquisti sul settore bancario dopo le rassicurazioni sul Fondo Atlante che garantirà sulle prossime ricapitalizzazioni e sulle cessioni di non performing loans. Grandi movimenti anche sul valutario con il recupero del dollaro dopo le pesanti perdite degli ultimi mesi sull'atteggiamento accomodante della Federal Reserve che ha deciso di rimandare il prossimo rialzo del costo del denaro. Crediamo che il movimento sia legato a ricoperture di grandi operatori in vista dei tanti dati macro in giornata, dalle vendite al dettaglio ai prezzi della produzione, dalle scorte statunitensi di petrolio alla pubblicazione del Beige Book redatto dalla Federal Reserve sull'andamento dei vari dipartimenti. Oggi avremo anche la Bank of Canada che dovrebbe lasciare invariate le strategie monetarie correnti. Attenzione tuttavia ai movimenti sul dollaro statunitense e dollaro canadese. Sul Forex da tenere sotto controllo anche lo Yen che dopo il forte apprezzamento nelle ultime ore si sono invece allentate le tensioni e il cambio USD-Yen è tornato a 109 dopo i timori per un'eventuale discesa a 105. Attenzione anche alla lira turca sulle decisioni del nuovo governatore della banca centrale Murat Setinkaya che potrebbero movimentare le quotazioni della divisa di Istanbul. Con questo è proprio tutto. Buon trading!